Questa sera qui al Museo Giardino di Pitagora presenta il libro Marica, tu sei l'editore, hai puntato su di lei, com'è questa scommessa, è vincente? Puntare sull'Achino, Amore e guerra nella Magna Grecia, scritto di Marica Falottico, è sicuramente una scelta vincente, non lo dico io, lo dicono i fatti, le richieste che stanno avvenendo non solo da Crotone, dalla Calabria, ma anche da Roma, dalla Lombardia, da tutta Italia e questo per me, per noi, è un orgoglio perché è un po' anche il succo del nostro operato, quindi quello di esportare la cultura calabrese in tutta Italia. È una scommessa vincente perché questo libro, l'Achino, ha vinto poche settimane fa il premio come miglior romanzo inedito dell'anno a Reggio Calabria, al premio Apollo, quindi ha prevalso su tanti altri libri che erano veramente di qualità e questa è stata una sorpresa per tutti che ha contribuito a lanciare nel migliore dei modi i libri. Qual è il filo principale del libro? Allora, diciamo che il libro si incentra sulla guerra tra Crotone e Sibari, fondato su personaggi realmente esistiti, documentati e tradotti con dovizia di particolari dall'autrice, accompagnati da personaggi secondari e invece inventati appunto da Marica Falotico e quindi questo intreccio è secondo me l'arma vincente di questo libro che è scritto non con un linguaggio aulico come fanno la maggior parte dei romanzi storici ma con un linguaggio super moderno che quindi aiuta a conoscere la storia calabrese e la storia dei luoghi che vengono raccontati all'interno del libro aiuta a farlo leggere con semplicità a chiunque, anche chi non è abituato veramente a leggere un libro e un romanzo storico. Invece lei diceva, Marica poco fa, diceva che il libro a Crotone forse gioca in casa ed è facile però state avendo richieste anche dal nord, da Milano, diverse città, Roma. Esattamente, sì è un libro che mi ha sorpreso da questo punto di vista perché ovviamente ci aspettavamo di far bene su Crotone poi insomma Reggio è andata anche benissimo con la vittoria del premio però rimaniamo in Calabria e invece insomma stanno arrivando richieste da tutta Italia soprattutto anche da Roma insomma perché Marica ha lavorato lì mi sono sorpreso particolarmente come dicevi tu quando ho visto che ci sono diverse richieste anche dalla Lombardia insomma questa è una novità assoluta e ci fa molto piacere insomma come diceva durante la presentazione anche Marica Falottico il fatto che magari dei milanesi e dei fiorentini possano leggere di questi luoghi e poi venirli a visitare anche d'estate è una cosa meravigliosa per noi calabresi.